Le collezioni del Museo Archeologico Nazionale delle Marche sono ospitate a Palazzo Ferretti nei quattro piani, a partire dal mezzanino dove si inizia con la sezione preistorica per arrivare poi fino all'età romana ed è proprio nella sezione preistorica che da quest'anno abbiamo introdotto una novità, un tavolo touchscreen attraverso il quale il visitatore può conoscere tutto lo sviluppo della sezione e tutti i materiali più importanti, i reperti più importanti che sono qui esposti Guida d'eccezione all'intera sezione preistorica è la Venere di Frasassi, questo piccolo idolo di 20.000 anni fa che è contenuto all'interno di una vetrina interattiva, sfiorando il vetro della quale si possono avere moltissime informazioni La Venere stessa che ci illustra i vari reperti che sono contenuti all'interno della sezione questi sono poi illustrati da codici QR code che possono essere scaricati nel proprio smartphone oppure nel tablet messo a disposizione dallo stesso museo Grazie